Ben ritrovati amici di Televalassina. Tra i cristiani qualcuno viene chiamato per un impegno più grande, il sacerdozio. Come avviene don Donato questa chiamata? È una chiamata, una vocazione, appunto il Signore chiede ad alcuni uomini di essere rappresentanti di Gesù Cristo sulla terra. Come si fa a scoprirla? Appunto con la preghiera e in questo caso, visto che siamo nel 2000, con il seminario che è un luogo in cui non è che si entra per diventare preti, ma si entra per scoprire se si ha la vocazione a diventare sacerdoti. Tutti possono essere chiamati? Tutti sono chiamati a una vocazione, non tutti sono chiamati al sacerdozio, per esempio. Nel Vangelo c'è il brano del giovane ricco che rifiuta la chiamata di Gesù. Cosa ha impedito al giovane di dire sì? Il mondo, le ricchezze di questo mondo. Ecco, nel Vangelo si dice proprio che lui aveva molti beni e quando Gesù gli dice lascia tutto e seguimi, dice no, io preferisco stare attaccato al mondo, ai soldi, agli averi e quindi mettere al primo posto il mondo, la mondanità e non il Signore che ci chiede quella povertà che non è pauperismo, ma è per avere un cuore libero per dire io mi attacco a te Gesù, mi fido di te, ti affido la mia vita e sono sicuro che con te non mi mancherà nulla. Perché oggi ci sono meno sacerdoti rispetto a qualche anno fa? Prima di tutto perché i messaggi sono più di una volta, quindi appunto pensiamo ai nostri giovani che Instagram, TikTok, Facebook e tutti questi social possono, gli arrivano, possono essere usati non per parlare di Gesù, non per fargli comprendere che c'è un disegno bello su di loro, ma per dirgli guarda che la vita va usata per essere il primo, devi comunque usare anche gli altri perché magari ti mettono i piedi in testa, cioè messaggi che non sono cristiani e quindi è più difficile discernere la vocazione di Dio. Poi perché magari nelle famiglie non si prega più e quindi non si parla più di Gesù e quindi un ragazzo fa fatica a sentire parlare di Gesù, a pensare che può dare la vita al Signore Gesù, in questo caso nel sacerdozio e poi perché il mondo e magari anche i sacerdoti in questo caso non sono così affascinanti come lo era il Signore Gesù, appunto folle immense seguivano il Signore. Magari noi sacerdoti, dopo un esame di coscienza ecco, dovremmo anche tornare a essere credibili, oltre che credenti e far affascinare ad essere innamorati di Gesù Cristo così che gli altri vedendoci dicono, beh, mi piacerebbe essere come quella persona lì, ma non per lui, ma perché l'ideale che persegue, cioè Gesù Cristo, il Vangelo, mi affascina. Quindi Don Donato non è vero che Gesù chiama meno oggi? No, Gesù chiama sempre, ha sempre chiamato e chiamerà sempre, è la risposta che è meno, ecco, proprio perché le orecchie magari sono tappate oppure non vogliono sentirla, oppure perché magari qualcuno che dovrebbe educare alla fede non lo fa, ecco, per esempio una volta i genitori magari dicono, oh, ti piacebbe fare il sacerdote, fare il prete, adesso non so in quante famiglie si fa questa domanda ai propri figli, perché? Perché non si vede nella vocazione sacerdotale qualcosa di bello o qualcosa che agli occhi del mondo è prestigioso, cosa che magari negli anni passati lo era. Grazie, alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.